Come mai il titolo del libro Dio sul palcoscenico con quale ruolo? Il titolo del libro è Come Dio si muove sul palcoscenico, è un libro che raccoglie 5 testi teatrali miei, tutti rappresentati in varie parti d'Italia. E' un titolo che vuole rievocare la rappresentazione nel senso profondo della parola, la rappresentazione del sacro attraverso testi teatrali e quindi attraverso tematiche religiose che si prestano a una dialettica forte, a un dramma di carattere umano e divino. Infatti questo libro contiene un testo teatrale su Savonarola che è un personaggio che visse in maniera drammatica la sua fede, oppure un altro testo è un monologo di Adamo e un monologo anche di Eva, quindi già i progenitori. E poi un altro atto unico è su Pirandello, Luigi Pirandello, quindi ho messo insieme, ho inserito anche questo testo perché appunto era nel suo campo in quello letterario, era un genio come Savonarola, era nel campo religioso un genio nel senso fuori dalla portata un po' di tutti noi. Grazie.